ok ragazzi partiamo subito con il gameplay numero 15 di one piece pilates 2 qui bisogna correre perché veramente non so il gioco se è lungo se è corto allora qui richiede un livello 16 io ho il personaggio al livello 15 spero che spero che andrà bene uguale vai facciamo salire qui la mia alleata al livello 16 almeno ok allora vai io prendo sempre il mio rufi ragazzi ah no sono al livello 16 sono credevo 15 vabbè comunque ragazzi possiamo andare ci sentiremo dopo il video dai ma non è Grazie per la visione! Ok ragazzi, anche qui ci aspetto un'arena abbastanza grande, diciamo, un livello bello pieno di nemici, secondo me, vediamo un po' preparazione per la battaglia, imposta monete, anche se io magari per adesso lascerei queste, però, dai lasciamo queste monete per adesso, andiamo subito... Ah, posso mettere un'altra abilità però ragazzi, e allora sì dai, due abilità fanno più comodo di una, no? Ecco qua, forza bruta ragazzi, ok, perfetto così ragazzi, possiamo iniziare... Guardate qui, vediamo un po' che livello è questo, secondo me, ci divertiremo anche qui, ci divertiremo anche qui ragazzacci, uh e subito c'è un forziere di quelli che piace a me, guardate, tac... Vicino vicino eh ragazzi, allora dove andiamo? Aha, c'è neanche un altro, eh allora aspetta... E allora aspetta zio, eh... Allora ragazzi, non so magari, andiamo di qua, e andiamo di qua, dai... Tanto comunque qui è da conquistare il territorio, sperando che mi aiutano perché... Vai, ci sono un botto di nemici, ma veramente un botto ne sono ragazzi eh... Eh, io ho visto già un altro forziere di quelli che mi garbano parecchio eh... E sono tre già ragazzi, tre nell'arco di... Poco tempo dai... Via così, via così, vai... Vabbè io li distruggo, li distruggo, poi fate voi ragazzi, poi fate voi... Guardate come vado qui, guardate come vado, tac... Vabbè li distruggo tutti... Faccio tutto io, gli altri non fanno niente, non fanno niente... Non fanno veramente niente, vabbè... Va bene... Ma vai così, dai... Sono andati ragazzi, vai, dov'è il comandante, dov'è? Eh, questo qui è bello incazzato eh... Vediamo un po'... No vabbè, crolla subito anche lui, crolla subito anche lui... Vai, territorio conquistato ragazzi, territorio conquistato... Di qua è chiusa la strada, quindi a questo punto vado su... Devo fare avanti, dietro, ma... No, si è aperta la strada ragazzi, si è aperta... Aspetta però... Aspettate ragazzi, vado qui ad aiutare il mio... Amico, vedo che è solo e... Non vorrei che poi perda la battaglia perché lo lascio lì... Da solo... Un altro forziere di quelli belli dov'è? Non c'è eh... Vai, inizio missione anche qui ragazzi... Si inizia la missione anche qui... Ottimo brado, ottimo, ottimo... Che bello sto gioco, che bello... Va bene, non mi stancherò mai di giocarci... Non mi stancherò mai ragazzacci... Mai, mai, mai... Dai però... Uscirà il capo qui ragazzi, il capo uscirà, che dite voi... Eccolo qui, è uscito, è uscito... È uscito, dov'è, dov'è, dov'è... Ah ma è sempre lui, no vabbè dura poco ragazzi... Dura veramente poco anche lui, guardate... È andato, è andato... Vai, alto territorio conquistato... Grande brado, grande brado... A questo punto ragazzi, bisogna andare giù qui... Eh eh... Queste sono le strade da fare, eh... Tranquilli, tranquilli... E ora arrivo e si ride, ora si ride qui... Allora, dov'è una bandiera? Dov'è un comandante? Guardate qui che bordello... Guardate qui ragazzi che bordello... È un casino, è un casino, dai... Eh vabbè... È andato... C'è un altro... Ehi la... Dove sei? Ok, è andato anche lui, è andato anche lui... Mi giro un attimo intorno... Ah perché vado di qua, devo andare anche di là? Vabbè... Facciamo questa zona, prima poi andiamo a quella, all'altra, dai... Che casino qui ragazzi, che casino... È un casino, veramente un casino... Dai... Cosa facciamo? Cosa fac... Vabbè... Vi distruggo tutti, guardate questo... Perché ti racconto a quest'ora... Vai... La mia super mossa... Eh vabbè adesso ragazzi, che super mossa speciale qui... È bruttissimo come personaggio, però dai... Ha un naso più lungo di quello di Ibrahimovic... Però dai, va bene... Lo accettiamo così ragazzi... Non c'è problema... Dov'è? Dov'è? Altra mossa speciale... Un altro bel colpo... Ulala... E ora... Ti saluto... Ti saluto... Vai... Posso farlo questo livello... Posso farlo alla grande... Sì, sì... Ottimo così... Ottimo così... Ottimo così... Grande... Missione fallita non fa niente... Non era quella principale quindi... Non mi interessa... Ecco... Ma c'è un forziere qui... Eh sì... Guardate che bello... Voilà... Bonus monete... Allora... Devo aiutare Nami... Dov'è Nami? Nami... Non ritrovo Nami ragazzi... Dov'è? Ditemi dov'è... Vabbè... Ho capito... Vado lì su... Salgo sopra... Salgo sopra... Vai... Distruggiamo questo comandante della base... Qui dai... Non vai da nessuna parte... Sono troppo forte... Lascia stare... Non sono un avversario per te... Sono fortissimo e basta... Vai un altro capitano... Eh vabbè... Non ce la può fare abbattermi ragazzi... Tranquilli che non ce la può fare... Vai... Devo andare... Di corsa da Nami qui eh... Eh... Sempre se riesco a... Trovarla ecco... Dove sei Nami? Dove sei? Vabbè... Qui c'è Perona... Un forsiere... 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 Attenzione... Vai... Così... Così... Grande... Grande diablo... Ulala... Poi ragazzi... Io tornerei un attimo indietro qui perché... Vedere questo comandante che comunque capitano che resta qui tranquillo... Non va bene quindi... Ecco... Ora sono più tranquillo... Ora sono più tranquillo... Ora sono più tranquillo... Sarebbe troppo bello... Se compare così vicino... Eh... Eh ragazzi... Distruggo tutti questi... Li distruggo tutti... Ecco Perona... Eh... Perona... Stai tranquilla... Un altro comandante della base... Sì... Sì... Vabbè... Dov'è Perona... Dov'è Perona Style... Eh... Eh... Vediamo adesso... Eh ragazzi... Quasi distrutta eh... Quasi distrutta... Dov'è... Dov'è andata? Ah... Perona si ritira... Temporaneamente... Ok... Insomma ragazzi... Per farvela breve... Scappata per il momento... Ecco... Ha paura della potenza brata... Ma guarda qui c'è... Ecco... Un attimo... Un attimo... Ho visto... Che succede? Che succede qui? Stai tranquilla... Ecco qua... E adesso... Ragazzi... Se l'hai cercata Perona lì eh... Che la colpivo in quel modo eh... Quindi non posso far nulla... No... Vai... La posso distruggere Perona qui? No eh... Vediamo un po'... Aiaiai... Non è che scomparo un'altra volta adesso? Vai... Vai così... Missione completa... L'ho distrutta ragazzi... Eh... Perona mi dispiace ma... Te la sei cercata... Eh... Posso farti niente... Vai... Qui vuole questo capitano... Qui... Questo finto capitano... Qui il capitano è brado... Ecco... Ok... Vai... Ciao... Te saluto... Vai... Rifacciamo il giro per tornare... Sì... Ora andiamo su... Andiamo su ad aiutare Nami... Aiutiamo Nami ragazzi... Nel frattempo non riesco a trovare neanche una cassa... Del tesoro segreto per... Per prendere una delle due tre monete che bisogna trovare qui nel livello però... Comunque mi accontento lo stesso ragazzi... Tranquilli che mi accontento... Uala... Sto prendendo di tutto ragazzi... Prendo di tutto... Sì... Vai... Ora vado qui... Vado qui... Vado qui... Non vado qui... Vado qui... Ma che bello... Ma che bello... Ma che bello... Che bello... E vai... Dove andiamo ragazzi? Di qua? Andiamo di qua? Massi... Siamo costretti ad andare di qua no? Quindi... Guardate qui un bordello ce ne sono... Vai facciamo questa mossa qui... Eh ragazzi... Eh eh ragazzi... Che bordello... Conquisto questa zona... Interromperemo il gameplay eh... Da qui non riesco a vedere a quanti minuti siamo... Ma comunque... E' un gameplay regolare dai... E' un gameplay regolare senza problemi... Ulla la cosa ho visto ora... Vai un altro capo ragazzi... Due da poco... Due da poco... Ma... Bisogna comunque... Affrontarlo... Vai... Sono al livello 17... 17... Allora ragazzi... Il gameplay numero 15... Di One Piece... Pilate Warriors 2... Si conclude qui... Ci sentiremo con i prossimi gameplay... Un saluto dal vostro Diablotex... Ciao banda... Rock and roll... Rock and roll... Rock and roll...